La parrocchia del Sacro Cuore di Piazza Daniele Maninni in festa per celebrare il Sacro Cuore di Gesù, due giornate di festa per il popoloso quartiere che come nella migliore tradizione liturgica festeggia il santo a cui dedicata la parrocchia. Quest'anno una celebrazione sobria e importante, con l'occasione per confermare la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Due momenti salienti della prima giornata, di sera la celebrazione della Santa Messa ufficiata dal Vescovo di Noto, Monsignor Antonio Stanagliò, a seguire in Piazza Segna lo spettacolo di Litterio con Enrico Guarnieri e Salvo La Rosa. Domani invece la festa esterna con la processione del simulacro del Sacro Cuore di Gesù per le vie del quartiere. Domenica 17 giugno ci sarà la festa esterna con la processione col simulacro del Sacro Cuore di Gesù. È un'occasione ogni anno quella della festa del Sacro Cuore per soprattutto confermare la nostra devozione al Cuore Sacratissimo di Cristo nel quale tutti noi siamo immersi perché siamo da Lui amati, guariti, redenti, salvati. Ognuno di noi ha posto nel cuore di Cristo, ognuno di noi dunque può considerarsi amato da Dio attraverso Cristo. La festa esterna vuole essere un'occasione preziosa per confermare la nostra devozione al Sacro Cuore e per vederci confermati nell'amore di Dio, amore che si estende a ciascuno di noi.